Comincia a prendere corpo questo evento straordinario delle università di Annapoli. Sono particolarmente soddisfatto, sapete, lo ripeto ancora una volta, che questo evento è finanziato totalmente ed esclusivamente dalla regione Campania per 270 milioni di euro. L'obiettivo qual era? Rifare tutti gli impianti sportivi che abbiamo a Napoli e nel resto della regione. L'80% degli impianti li stiamo rifacendo, a cominciare allo stadio San Paolo, lo stadio Arechi, piscina Scandone, le piscine alla mostra d'oltremare e quant'altro. Secondo ovviamente avere una iniziativa di promozione economica, turistica, di immagine per Napoli e il resto della regione.